È stata una scena da film con risvolti spettacolari, quella che hanno vissuto stamattina la polizia municipale di Fano e dei Bagnanti all'altezza di Metauriglia. Un uomo sui 65 anni, residente nel Lanconetano, è stato sorpreso senza copertura assicurativa dalla telecamera OCR dei vigili urbani. Così la pattuglia, mentre si trovava sulla statale, ha fermato la Fiat Punto dell'Uomo per un controllo. Il protagonista esponeva addirittura l'assicurazione di un altro veicolo e nel momento in cui i vigili si sono allontanati per le verifiche del caso, ha tentato la fuga dirigendosi prima nel sottopassaggio di Ponte Sasso, poi entrando direttamente in una spiaggia gremita di persone, suscitando anche l'ira del bagnino. A quel punto l'auto si è arenata ed è stata raggiunta dagli agenti che hanno provveduto a sequestrare il mezzo, portato via poi dalla protezione civile.